Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni pass Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non si rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro, un cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro, ospite della puntata Benvenuto a una nuova puntata, abbiamo ospite un cantautore Figlio d'arte, Charles A questo punto la prima domanda Per chi ancora non ti conosce, ma tanti ti conoscono Hai tanti ammiratori e tanti fan Per chi non ti conosce nel nostro territorio Come ti descriveresti? Questa è una domanda veramente difficile da rispondere Comunque mi chiamo Charles Gnabal Figlio di William Gnabal Un cantante Che non ho un genere di musica solo Sono, diciamo in inglese Sono un versatile artist In senso che faccio tutto il tipo di musica Qualciasi tipo di musica Anche reggae, anche rock, anche blues Come mi viene? Viene E tutto qua E sono un inglese Che vive in Italia E quando nasce Parliamo tanto dell'ultimo single The Future of Africa Quando nasce questo brano Da cosa hai sentito La necessità, l'ispirazione Di dover creare questo brano? Ok Essendo un uomo africano Lo so la situazione giù da noi Che siamo un continente molto ricco Però allo stesso tempo siamo poveri E poi c'è qualcosa che non va Per questo ho scritto questa canzone Sperando che in futuro Che la situazione in Africa migliorerà Che staremo meglio Ecco perché la canzone si chiama The Future of Africa Che significa Il futuro dell'Africa Se si sente le parole dentro Lì sto dicendo che Che vedo la terra verde Che vedo un continente Invece di importare Noi esportiamo le cose Capito? Invece di dipendere su dollari Noi dipendiamo dal nostro denaro È una canzone molto positiva per l'Africa E speriamo che in futuro sarà così Nella realizzazione dei tuoi brani E appunto Sendo che tutti Quasi tutti Praticamente sono in inglese Ami essere come nell'inglese appunto Un po' sintetico Un po' ermetico Oppure Lasci interpretare un poettino La canzone Oppure Sei influenzato un po' Lo stile italiano Che è un po' più longevo E descrittivo Perché visto che adesso Vivi in Italia Sì È vero che vivo in Italia Ma mi spiego meglio in inglese Anche per questo uso Sempre l'inglese Mi spiego molto meglio E poi Il 90% dei miei fans Capiscono l'inglese Che per questo Faccio quasi tutto in inglese Le canzoni nascono Prima da un riff Da un beat Oppure da una Da una parola Da una frase Oppure Possiamo dire che Accidentalmente Si incontrano E vivono Questa canzone Si sviluppa insieme Ogni canzone Ha la sua storia Ok Ci sono alcune Di mie canzone Che Si nasce Sentendo un beat Ok Sentendo questo beat E poi Forse Il beat Sparca E da lì Viene qualche Ispirazione Cerca di scrivere Su questo beat E poi ci sono Alcuni Ad esempio Mia canzone Loving to the end Parla dei medi Una cosa Che mi è successo In passato Non c'era Nessun beat La canzone Ho scritto prima La melodia L'ho trovata Molto prima E poi Sono andato Dal mio produttore Abbiamo creato Un beat Ok Che ogni canzone Ha la sua Sua storia Dipende Dalla situazione Dall'inspirazione Dipende Invece Invece la copertina Di questo singolo Oltre che Chiaramente Era ispirata All'Africa Ma il contenuto Questo verde In fondo Rappresenta Un pochettino Che Porta Speranza Visto che Ormai C'è la mania Del green Sì Perché se sente La canzone Dici I see A land Is green I see A land Is green Vuol dire Vedi una terra Verde Ok Che sappiamo Quando la terra È verde È una cosa Positiva Capito Perché La copertina Abbiamo fatto Così Per un significato Positiva Per l'Africa E invece Quanto è Stato Influente A livello Di generazione In musica Perché poi Abbiamo detto Appunto La musica È un'espressione Dell'anima Del pensieri Quindi Qualsiasi genere Rappresenta Però Quanto è Influenzato Tuo padre Nel Poi Entrare Nel mondo Della musica Ripeto La domanda In che senso Quanto Quanto è Stato Influente Nel Visto che Tuo padre Musicista E grande Artista Ha influenzato Nella tua Entrata Nella Mondo Nella musica Diciamo Che Quello Che so Io Ora Della musica Lui Mi è influenzato Tantissimo Perché Crescendo Ero sempre Con lui A vedere Quello che fa Quello che non fa L'unica cosa Che Ho iniziato La musica Quando non c'era Più lui Perché Lui è morto 2017 E Unicato La musica 2020 2020 Però Diciamo Che Tutto quello Che faccio Oggi È imparato Da lui E a questo Punto Il ricordo Più bello Che ti porti Anche Nei momenti Live Che Se hai assistito Ti riporti Il babbo O papà Papà Sì Sì Qual è il momento Più bello Che ricordi Emozionante Tra tante Immagini Ma soprattutto Live Che ti sporti Dietro Un pochettino Nel Nel cuore Diciamo Mi ricordo Quando Avevamo Piccolo Che C'ho Altri Due Fratelli E lui Mi ha chiamato Charles Vieni qua Chiamo Tuoi fratelli Siamo venuti Tutti Ha detto Mi ha detto Di prendere Bloom È un tipo Di È presente Quello Per Spassare La Terra E lui Mi ha detto Di cercare Di spaccare Tutto E io non ce la facevo E lui mi ha detto Va bene Prendi uno E cerca di Spaccare Quello L'ho fatto Andato Dice Il fratello L'ha provato Lo stesso risultato Anche quell'altro E lui mi ha detto Voi tre Deve essere Sempre insieme Così nessuno Può fare niente A voi tre Però quando Litigate Siete separati È un problema Allora Quello mi ha Lemato sempre In testa Fino ad oggi Quello che mi ricordo Sempre di lui Non ti sento Sì no no Dicevo A questo punto Suonare Sicuramente Hai suonato dal vivo Tante volte Qual è la sensazione Che provi Salendo sul palco Poi sotto C'hai È suonato dal vivo Sì 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 Ma Se è cantato Dal vivo Sì Qual è la tua Sensazione Salendo sul palco Di fronte C'è un pubblico Che Veramente È in silenzio Però Poi Quando comincia La tua musica Anche se sei poco Concentrato Però senti Quell'energia Che ti trasmettono E che tu Ritrasmetti Quelle emozioni Tue Con ciò Che vuoi raccontare Qual è la tua Sensazione Che provi Allora Vi dico la verità Prima di salire Sul palco È un momento Più difficile Nella mia vita Non si succede Sempre Ogni volta Che vado Sul palco È molto difficile È Panico Però La parte Più difficile È iniziare Sempre La parte Più difficile Però Appena riesco A Iniziare A dire Due Tre parole E vedo Come fanno Le gente Come le gente Mi rispondono E da lì Si comincia E La cosa Più importante È che Mio Canzone Mio musica Mi piace E mi diverto Mentre sto cantando Che anche Quello Mi aiuta Tantissimo E poi Quando vedo I miei friends Che fanno Che Gridano Che cantano E tutto Quello mi Quello mi dà Una soddisfazione Che mi fa Andare oltre A A saltare A fare Quello che faccio Sul parco E io Qualche volta Quando vedo Il mio video Di quello Che ho fatto Sul parco Non mi rendi conto Che l'ho fatto Perché Quando sono sul parco Non voglio Pensare Di quello Che pensano Nessuno Io Penso Soltanto Di divertirmi E di far divertire Altro Il commento Che ti ha sorpreso In Che Dei fan Che ti hanno fatto E che In fondo Un pochettino Ti ha anche lasciato Quella sensazione D'emozione Comunque Felicità C'è? Sì Da una Una bambina Di Undici anni Avevo una Cartella Di che c'è scritto Charles sei il migliore Quella Mi ha fatto Mi ha commosso Veramente Mi ha fatto stare bene E l'ho preso L'ho portato a casa E l'ho fatto Un quadro Con quello L'ho messo a casa Mi ha messo un muro A questo punto Progetti futuri Oltre a promuovere Chiaramente il singolo Ci sarà Altri brani Per poi racchiudere In un disco Oppure Rimarranno Tutto in digitale Ok allora Questo singolo Di Future of Africa È nel mio album nuovo Che è uscito Prima Prima settembre L'album si chiama OnyekaC È già uscito In tutti I piattaformi Digitali Spotify Apple Music Ovunque Ce l'abbiamo E poi L'anno prossimo Da gennaio Comincerò Il mio tour Tour Comincerò Il mio tour Non vi posso dire Niente adesso Però Appena siamo pronti Si vedono Tutti Tutti i miei social Instagram O Facebook Publichiamo Tutti Allora Adesso ti ringraziamo Per essere stato ospite A questo punto Ci mancano Due cose fondamentali Gli indirizzi Dove poterti raggiungere I social Spotify Qualsiasi altra Piattaforma Dove Raggiungerti E i saluti Finali Ok Mi potete trovare Su Instagram Sempre Tioccio La Ciao Sognavo Anche Facebook Uguale Ciao Sognavo Twitter X Ciao Sognavo Mi trovate Ovunque Sempre Con Ciao Sognavo E vi ringrazio Tantissimo Andate a sentire Il mio Musica Chi Voglia Ascoltare Chi Voglia Ascoltare Vera Musica Deve andare A sentire Il mio Il Buona giornata Perfetto Abbiamo finito Io ti ringrazio Ti auguro Buona serata Se per caso Hai delle foto Da mandarmi Per poter Allegare All'intervista Mi farebbe Piacere Me le puoi mandare Anche tramite Whatsapp Quindi Lo mando adesso Lo mando adesso Ah ok Io ti ringrazio E ti auguro Buona serata Grazie Grazie Di Passione Coraggio Siamo pronti A brillare Studio 7 TV Ci guida Ad ogni pass Ad ogni sfida Ad affrontare Con orgoglio Con onore Siamo pronti A dare Il nostro Meglio Con Pietro Come guida Il nostro spirito Non serve Ne Mai Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Pidipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Grazie a tutti.